Come può uno scoglio, il significato del film con Pio e Amedeo Come può uno scoglio è il film con i due noti comici pugliesi Pio e Amedeo, che sta riscuotendo molto successo al cinema. Al centro delle trame c'è Pio, un bravo ragazzo impacciato ed ingenuo che, dopo la morte del padre, viene candidato come sindaco dagli imprenditori locali. Il motivo della sua elezione è legato proprio all'ingenuità del ragazzo, che gli imprenditori pensano di poter raggirare in tutti i modi ottenendo quindi favori personali. La situazione cambia radicalmente nel momento in cui Pio decide di fare un favore al parroco del paese, assumendo Amedeo a lavorare con lui. Quest'ultimo è il contrario di Pio, infatti è un ragazzo esuberante, appena uscito dal carcere, che non ama seguire le regole e che non si fa problemi di fronte a nulla. A quel punto Pio capisce di aver vissuto una vita incompleta, mentre Amedeo gli fa scoprire un modo di affrontare le cose che fino a quel momento Pio non aveva mai conosciuto. I due sono gli opposti ma diventano amici e fanno anche naufragare i progetti dei potenti della zona che avevano intenzione invece di manipolare Pio a loro piacimento. Ovviamente, la presenza di Amedeo rende tutto più scansonato e trascina Pio nelle sue avventure, mettendo in primo piano la comicità tipica dei due foggiani. Nelle numerose recensioni rilasciare in merito al film con Pio e Amedeo, in tanti hanno apprezzato la loro ironia, l'esagerazione che mettono in scena proprio per far ridere. Nel film ci sono diversi significati, anche se all'apparenza può sembrare esserci soltanto leggerezza. Viene criticato indirettamente il populismo dei politici, ma anche il sistema di favori che esiste in Italia, come quello che Pio fa al parroco o come quelli che gli imprenditori pretendono dal nuovo sindaco. L'invito è anche quello di non fermarsi mai alle apparenze, mentre, come accade in molti altri film comici, vengono portate in scena anche le classiche mentalità corrotte presenti anche nella politica delle piccole realtà. In tanti hanno notato anche l'accurata scelta delle colonne sonore, non le classiche che ci si aspetterebbe per un film del genere. Infatti ad esempio sul finale è stata scelta Campo Minato di Ariete e Tananai. Un film, quindi, unico nel suo genere sotto diversi punti di vista, che mette al centro la comicità tipica di Pio e Amedeo. Al momento si tratta di un film di grande successo che ha messo d'accordo anche i loro detrattori. Voi che cosa ne pensate? Avete visto come può uno scoglio e vi è piaciuto o no? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti. Grazie per la visione!